Il sondaggio di ieri era un sondaggio un po' più semplice e vi chiedevo se questo fosse collezionismo di serie B. La risposta è stata abbastanza univoca, anzi, questa poi in particolar modo è molto bella, le auto d'epoca sono tutte di serie A, le schifezze che fanno oggi sono inclassificabili, tutto è relativo, poi no. Beh, grazie per le risposte, oggi ti dirò fare un quesito un po' più pregnant again.